Due milioni a noi, mi pare mezzo miliardo, 500 milioni per ripianare le casse della Sicilia, c'è un caso veneto? Non è un caso veneto, è un caso nazionale, è immorale che vengano date mezzo miliardo di euro di tasse pagate col sudore e la fatica dei cittadini per andare a ripianare dei buchi, quindi una cattiva gestione dell'amministrazione pubblica, degli sprechi, e sono tenue parlando solo di sprechi e quando c'è una devastazione di questo tipo il governo stanzi due milioni di euro, è una carità che viene fatta con dei soldi oltretutto che appartengono a quegli stessi cittadini, perché ricordo che il Veneto versa molto di più nelle casse dello strato centrale rispetto a quanto riceve, quindi non è una regalia, è un diritto che hanno e il governo deve rispettare quel diritto perché non si possono lasciare le persone senza casa e senza lavoro che tanto prima o poi qualcosa succede, perché succede che la gente si arrabbia veramente e giustamente si arrabbia, perché la regione Veneto in 24 ore ha dato 6 milioni di euro, lo Stato nazionale ha dato 2 milioni di euro, è indecente e ingiustificabile.